Scendono ancora i nuovi casi positivi di Covid diagnosticati in Toscana in 24 ore. Il bollettino della regione parla di soli 13 nuovi contagiati, 7 nell'Asla Toscana Centro, 3 nella Nord-Ovest e 3 nella Sud-Est, che portano il totale a 9.787. I guariti crescono dell'1,7% e arrivano a 4.764, rappresentano il 48,7% dei casi totali, quasi la metà. Si registrano anche 8 nuovi decessi, 3 uomini e 5 donne con un'età media di 82 anni. Tolti i deceduti e i guariti, gli attualmente positivi in Toscana sono 4.073, l'1,8 in meno rispetto a ieri. I tamponi effettuati hanno raggiunto quota a 179.469, quelli analizzati oggi sono 1.684. L'indice di contagiosità R.0 rimane quindi stabilmente in Toscana sotto lo 0,6. Complessivamente 3.649 persone contagiate sono in isolamento a casa, mentre sono 9.803 quelle anche esse isolate che sono in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con i positivi. Si riducono ancora i ricoveri in ospedale, oggi sono 424 in tutto, di cui 77 in terapia intensiva.